Cari amici, un saluto da Nat Russo. Oggi è il 19 ottobre, una giornata densa di avvenimenti importanti. Nel 558, a seguito di un terremoto, crolla l'arco triunfale nel foro di Teodosio a Costantinopoli. Magnifico arco a tre fornici con una grossa schiera di colonne a contornarlo. Nel 1866, all'Hotel Europa, che oggi è sede della Biennale, proprio sul Canal Grande, il Veneto viene ceduto dall'Austria alla Francia, che subito lo cede all'Italia. Il nostro risorgimento che cominciò a conquistare tutta l'Italia settentrionale per poi unificarsi, anzi si era già unificato con l'Italia meridionale, grazie a Garibaldi a Teano. E siamo al 1987, il maledetto lunedì nero della borsa di Wall Street. Il crollo dell'indice Dow Jones ed esplosione di un'enorme bolla speculativa, inevitabile effetto della sopravvalutazione dei prezzi delle azioni. E siamo al 2007, in cui una burla, un'invenzione, un atto artistico, chissà, la Fontana di Trevi si colora improvvisamente di Rosso. E per oggi è tutto, un saluto da Nat Russo, a presto.